Durissima prova, sono immagini eccezionali quelle che ci arrivano dalla regia, quelle che abbiamo vissuto in prima persona stamani salendo ed erano le 11, le 10 e mezzo, 11 e già stamani era un problema per correre questo tipo per fare i conti, allora 30-28 la posizione esatta di Urana mentre sta arrivando all'ultimo chilometro Nairo Quintana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.